14 pari, Prato fuori per Trozzola, rigore decisivo wow, devo mandarla a tutti, subito oh, amore, dobbiamo partire, sta iniziando la calcareca vista, sfida, stasera non ci sarà la partita, la calcareca piccola pipì? niente? aspetta Bobbi, aspetta che mi chiamano ma Bobbi, andiamo, c'è la calcareca, vieni ciao ciao vuoi la fai una piccola per favore? si, subito dove vado? dove vai? c'è la calcareca, devo andare a me non c'è niente la calcareca c'è la calcareca, devo andare ma la sei licenziata e fa niente e la birra? e niente, la birra, c'è la calcareca buongiorno, buongiorno abbiamo visto quella lì posso provarla? sicuramente buongiorno, 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 grazie mille buongiorno, buongiorno, buongiorno buongiorno, buongiorno c'è la calcareca, la devo salutare mi scusi ehi scusi scusi buongiorno ciao, ascolta non sono mica a farti un gioco di magia ti va? devi solo dirmi stop quando vuoi ok? io scorro le tante stop stop qua sotto il quattro si esca si aspetta un attimo di me il nostro messaggio se mi metto il telefono cazzo stai iniziando la calcareta la calcareta la calcareta perda penso che sia arrivato il momento giusto chiudi di occhi dammi la mano non vuoi spiegare scusa devo correre la calcareca 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 e i vincitori e i vincitori accederanno alle finali nazionali scudetto a Cesenatico e ora guardate un po' chi vi invita ciao ragazzi sono Alessandro Bastoni difensore dell'Atalanta vi invito tutti alla calcareca e ricordatevi che c'è prima del mondiale noi abbiamo la calcareca un abbraccio ciao sono Perti Stadella vi aspetto tutti quanti a calcare per la calcareca come ben sapete quest'anno è il mondiale di Italia non partecipa quindi non avete niente niente da fare vi aspetta questo torneo importantissimo con oltre con tantissimi premi mi raccomando venite numerosi un abbraccio a presto ciao a tutti ragazzi sono Andrea Colpani sono campista dell'Atalanta volevo solo ricordarvi di partecipare alla calcareca e niente ci vediamo a calcare e ricordatevi ma che ci frega dei mondiali noi abbiamo la calcareca a presto e ora ragazzi si baila come el ciao ragazzi sono il Pappu Gomez vi aspetto a tutti nella calcareca un abbraccio ciao a tutti